Mascherine e saturimetri non conformi alla normativa europea e di conseguenza potenzialmente pericolosi per la salute in questo delicatissimo momento che stiamo vivendo, sono state sequestrate a Padova dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale. 7 milioni di prodotti tra mascherine chirurgiche, FFP2 e dispositivi medici che ora sono stati ritirati dal mercato. Dall'analisi della documentazione commerciale rinvenuta è stato rilevato che la merce prodotta in Cina veniva sdoganata in altri stati dell'Unione Europea per il tramite di una società tedesca e una spagnola le quali trasferivano successivamente i prodotti alle imprese italiane. Le operazioni di questo tipo stanno procedendo con regolarità con il duplice obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori cui si affianca l'inderogabile esigenza di salvaguardare l'economia legale scongiurando fenomeni distorsivi della concorrenza. Grazie. Grazie.